Amici di Moto.it, ciao a tutti sempre dallo stand BMW qui a Intermoto 2018 per l'altra novità portata dal costruttore tedesco. Parliamo della BMW R1250 RT. Cosa cambia? L'estetica no, è invariata perché la Gran Turismo tedesca è confermata perché è una moto aggiornata molto di recente, quindi linea ancora attualissima, però il motore è completamente nuovo. Arriva infatti la nuova versione del Boxer che cresce di cilindrata da 1170 a 1254 cc per 136 cavalli. Ma soprattutto arriva la tecnologia della fasatura variabile sulle valvole di aspirazione. Questo perché? Perché il motore è già pronto per la normativa Euro 5, quindi minori consumi e minori emissioni. Ma soprattutto il motore è anche meno rumoroso di meccanica perché la precedente catena di distribuzione a rulli ha lasciato il posto per una catena dentata. Non finisce qua perché migliora anche la dotazione elettronica della moto che ora può essere dotata delle sospensioni ESA a controllo elettronico di ultima generazione. Come cambiano? Sono sospensioni attive, quindi cosa importantissima, regolano in automatico anche il precarico della moto. E questo è fondamentale su una moto come l'RT perché la moto sa riconoscere il peso caricato a bordo sia delle valigie che del passeggero. E in automatico l'ammortizzatore si regola. Non finisce qua perché la dotazione elettronica della nuova RT comprende adesso il DBC che è un ausilio alle frenate d'emergenza che chiude la farfalla quando il pilota si attacca ai freni. E altra cosa molto utile in viaggio quando siete su strade molto ripide è l'Illistart Control che tiene la moto ferma in salita e quindi non la fa arretrare ed è fondamentale se siete ad esempio carichi col passeggero e i bagagli. Ma non finisce qua perché l'RT è proposta in colorazioni molto belle. C'è questo blu metallizzato e adesso Luca andiamo a vedere le altre colorazioni che prevedono un verde petrolio sempre metallizzato, molto elegante. E poi se volete un'RT più sportiva andiamo a vedere la versione rossa. Eccola qui, sempre con lo sguardo con il doppio proiettore caratteristico di BMW e questa colorazione che è molto più sportiva. Chiudiamo con la BMW R1250 RT con il prezzo. La moto parte da 19.450 euro, chiavi in mano e il primo tagliano incluso. Commentatela qua sotto.